La sussidiaria di O-Green è un aiuto, un aiuto per le scuole, per capire meglio come le aziende, i comuni, le scuole si stanno trasformando per la sostenibilità del territorio. E quindi quelli che sono i cambiamenti dei prodotti, ad esempio i prodotti biologici dell'agricoltura, l'edilizia sostenibile, quindi questo strumento serve a delle chiavi di lettura per selezionare sul territorio quelli che sono gli attori che stanno andando nella direzione della green economy e della sostenibilità, quindi su quelle che sono le aziende o le istituzioni più innovative del territorio. Quindi questo strumento di fatto proprio aiuta a capire come il territorio si sta trasformando.